Una volta che c'è una scelta, vivere una vita di responsabilità. Chi sono io? Io sono Spider-Man e ho una missione da compiere. Ciao, Erwin. Ciao. Come se la passa l'insetto? Io voglio quell'uomo morto. Ma perché mi succede questa cosa? Come vanno le cose alla Oscar? Ah, alla grande. Sono a capo dei progetti speciali. Stiamo quasi per spondare sulle fuzioni. Stiamo finanziando uno dei tuoi, 8 Octobus. Un incremento esponenziale della produzione d'energia. Un'enorme quantità d'energia. Lei è sicuro di poter stabilizzare la reazione di fusione? Conosco le conseguenze di ogni minimo errore di campo. Oggi potrete assistere alla nascita di una nuova fonte d'energia basata sulla fusione. E non posso continuare a pensare di te. Mi sta per sposare. Tutti quanti amano Geron. La gente li aspetta, li acclama, grida i loro nomi. Devo andare a fermarlo. Io sono Spider-Man. Stanno succedendo cose qui Più grandi di me